Facciamo adesso la conoscenza di Sara Serraiocco, attrice italiana emergente. L'attrice è nata a Pescara. Fin dalla sua tenerissima età ha dimostrato un particolare interesse per il mondo del cinema ed in seguito per la danza. In tenera età si è trasferita a Roma per studiare la Centro Sperimentale di Cinematografia. La sua carriera di attrice vera e propria inizia nel 2013 e con il suo ruolo da protagonista nel film Salvo. In tale film Sara Serraiocco commuoverà il pubblico per il suo ruolo di non vedente. Per tale ruolo otterrà l'ambito riconoscimento del Globo d'Oro. Il 2014 è per lei l'anno della consacrazione nel ruolo di Chiara D'Assisi nella serie televisiva Francesco. Nel 2015 Lamberto San Felice la vuole nel cloro. Per tale partecipazione è nuovamente candidata al Globo d'Oro. Insieme a Donatella Fino Chiaro la ritroviamo poi in La cabadora di Enrico Pau. E in opera prima di Marco Danieli. Mentre nel 2016 Sara Serraiocco è proclamata talento emergento al Film Festival di Berlino. Scheda di Sara Serraiocco. Nata a Pescara. Nata il 13 agosto 16. Risiede a Roma. Segno zodiacale Leone. Altezza 1,70 cm. Occhi Verdi. Pagina Instagram. Professione ha studiato fin da piccola come attrice e adesso è una delle principali attrici emergenti italiane. Hobby ama la natura e divertirsi con le amiche. Ancilla Stifồitz. L'A Yugoslopiatri. Ancilla Stiflio. Ancilla Stifili. Ecco a Pai. Ancilla Stif Westminster. Ancilla Stifios e donnez향 – haha strutturare qui